Benvenuti agli amici del web. Oggi cominciamo con la politica. Il presidente della regione toscana Claudio Martini ha annunciato ufficialmente che non si ricandiderà alle prossime elezioni del 28 marzo. Martini ha detto che è il momento per praticare il rinnovamento e ha parlato di ragioni del tutto politiche e non personali. Parliamo adesso di scuola. Entro metà novembre potrebbero aprire nella regione 43 sezioni di scuola dell'infanzia. In questa maniera ci sarebbe la possibilità di avere un posto alla scuola dell'infanzia per oltre mille bambini dai 3 ai 6 anni. Adesso passiamo alla cronaca nera. Incidente mortale a Livorno, un uomo di circa 40 anni ha perso la vita, è stato travolto da un camion nei pressi dell'ospedale ed è morto sul colpo. Cambiamo argomento e passiamo alla cultura. A Casa Buonarroti dal 28 ottobre al 16 novembre sarà esposta una replica in bronzo della Madonna di Bruges di Michelangelo. Alla fine di questa esposizione la scultura verrà trasferita da Firenze negli Stati Uniti, a Washington e dove dal 7 dicembre verrà esposta al pubblico. Adesso invece ritorniamo con la memoria all'alluvione del 1966. È stato girato un video, un film documento da Erasmo D'Angelis. Vediamo tutto in questo servizio. L'alluvione a Firenze come non era mai stata vista prima. La ricostruzione delle ore drammatiche successive al 4 novembre 1966, 90 minuti al ritmo di immagini shock d'epoca, inedite e a colori. Ricostruita anche tutta la verità sui ritardi dei soccorsi. Mediateca regionale Toscana Film Commission ha presentato alla stampa il più completo film documento sull'alluvione di Firenze e sull'arrivo degli angeli del fango. Regista e autore Erasmo D'Angelis, giornalista, presidente della Commissione Territorio ed Ambiente del Consiglio regionale, nonché promotore del raduno internazionale degli angeli del fango del 4 novembre 2006, con la partecipazione anche di Paolo Endel che, smessi i panni del grande comico, con la sua voce narrante ha dato ritmo e tono al racconto per immagini. Il lavoro si avvale anche della consulenza del giornalista Sandro Bennucci e di Giovanni Menduni, già segretario dell'autorità di Bacino dell'Arno e oggi segretario generale del Comune di Firenze. Questo film è il racconto di ciò che accadde prima, durante e dopo l'alluvione di Firenze del 1966. Dopo tre anni di ricerche, soprattutto di materiali e di immagini che abbiamo recuperato dagli archivi della RAI, dell'esercito, di tanti privati cittadini che ci hanno consegnato i loro filmati girati in Super 8, in bianco e nero, a colori. Ecco, siamo riusciti a produrre questo documento che è davvero, come dire, il nostro SOS per evitare che si possa ripetere qualcosa di mai visto. Già dall'incipit iniziale, il docufilm è uno shock, la dedica alle 35 vittime dell'alluvione elencate nome per nome, ma soprattutto una terribile fotografia ritrovata negli archivi di un gruppo di angeli del fango che trasporta a braccia un ragazzo appena deceduto. Facce stravolte e vestiti sporchi di fango lasciano un senso di vuoto e soprattutto il vuoto di un nome, di tanti nomi. Bene, ora parliamo di sport, calcio. Domani sera la Fiorentina a Genova si incontrerà il Genoa e Prandelli, dopo la sconfitta di domenica in casa contro il Napoli, incita i suoi e dice che tutti si dovranno sacrificare per i compagni. In campo sarà difficile che ci possano essere Jorgensen, Santana e Natali, ha detto Prandelli e ci sono in forze Kroldrup, Dainelli e Marchionni. Il Genoa è una squadra competitiva, attrezzata, che gioca un buon calcio, ha detto ancora Prandelli e quindi la partita è abbastanza impegnativa. Prandelli comunque sta incitando i suoi per metterci tutta la grinta possibile per avere poi un risultato migliore di quello di domenica. Bene, con questo abbiamo concluso, grazie a tutti per averci seguito.